Una buonasera a tutti. Questo breve video, per dire che poco tempo fa, è successa una cosa che mi ha fatto piacere, tutto sommato, perché di fronte a molta ignoranza che c'è del mio canale, perché quando si tratta di conoscere i siti dove si trovano degli audiolibri gratuiti nel web, spesso non si parla di questo canale, insomma, non viene citato, non viene nominato. Bene, invece, per caso, guardando pochi giorni fa, ho trovato che donne sul web, le donne, le devo ringraziare, ha fatto un post di questo tipo, un articolo di questo tipo, audiolibri gratis in italiano, dove trovarli, come ascoltarli, donne sul web. E qui si scriveva, su YouTube si trovano migliaia di audiolibri gratis in italiano, dai romanzi alle storie per ragazzi, ma anche molti racconti. Vediamo dove trovarli, quali canali seguire e quando ascoltare gli audiolibri. Vabbè, poi, dopo alcune considerazioni generali sugli audiolibri, c'è il titolo Audiolibri gratis su YouTube, i canali migliori. Oggi uno dei modi più diffusi, dice di fruire gli audiolibri, è senza dubbio YouTube. La famosa piattaforma video, infatti, può essere usata anche come una vera e propria radio, e con il PC o lo smartphone è possibile ascoltare in streaming racconti o romanzi. È possibile anche scaricarli, dico io. La scelta è molto vasta. Si trovano migliaia di canali e playlist di audiolibri in italiano. C'è davvero di tutto. E per alcuni dei romanzi e racconti più famosi ci sono più versioni, dunque potete scegliere la voce che preferite. Segnaliamo alcuni dei canali migliori, per quantità e qualità. E qui, come primo, cita Walter Zanardi e dice È un signore che ormai da anni, ogni giorno, pubblica le sue letture di racconti, romanze e poesie. Nel suo canale ci sono letture integrali di romanzi famosi, italiani e stranieri, diari, lettere, e in generale tutto ciò che è letteratura, sia classica che contemporanea. Con una costanza invidiabile, pubblica opere intere della durata anche di dieci ore, come l'Odisseo, Deritto e Castigo, alternandole a vlog in stile youtuber, dove parla di sé e dei libri che legge. Ecco, questa è la prima volta che vedo citare il mio nome, il canale, insomma il mio canale, quale fonte di audiolibri gratis. In genere si cita sempre tutt'altro, anche se magari, come dire, dentro qualcos'altro, per esempio audiolibri.org, ci sono molti dei miei video, insomma delle mie letture, ma il mio nome così non mi pare che fosse mai stato fatto e la cosa mi ha fatto piacere anche perché vi garantisco che non c'è stato nessun suggerimento, nessun contatto da parte mia, io non sapevo neanche che esisteva questo sito. Quindi grazie. Grazie perché si sono accordi, perché hanno fatto anche, hanno scritto due righe, anche in maniera abbastanza seria, abbastanza documentata, insomma hanno guardato. E molti, per esempio, video che vedo di youtuber che parlano di audiolibri, non si cita il mio canale, come se non esistesse, insomma. Anche se, insomma, in qualche modo nel tempo c'è stata una produzione piuttosto consistente e vedo dai vostri commenti che la cosa anche piaccia abbastanza. Devo dire che io, a differenza di quelli che probabilmente sono diventati i meccanismi di promozione, io non ho mai speso un soldo per promuovere il mio canale. Né sono andato a spammare da qualche parte, non ho mai fatto nessuna manovra, insomma. Né ho mai investito, anche su Facebook, insomma, per promuovere pagine o così via. Tantomeno su YouTube. Né ho mai chiesto altre cose, eccetera. Però un po' mi dispiace che molti libri per i quali c'è stato molto lavoro sotto spesso passano quasi inosservati. Arrivare a 50, 100 visualizzazioni, spesso per un libro che magari ha richiesto giorni di lavoro, un po' dispiace, no? Allora, io vi chiedo, chiedo a quelli che apprezzano questo canale, quello che mi dimostrano nei loro commenti, di apprezzare, che sento vicini, insomma, perché mi dicono anche cose belle, fondamentalmente, chiedo a loro, se possono, di coinvolgersi un po' di più, cioè di condividere le mie letture, insomma, quelle che per caso hanno modo di ascoltare, quindi di condividerle nelle loro baccheche di Facebook, di parlarne con gli amici, insomma, di fare in modo che la gente arrivi anche in maniera meno casuale di come succede adesso, insomma, dove mi accorgo che chi scopre il canale spesso lo scopre perché magari cerca un titolo particolare, siccome io ho postato un po' di tutto, poi alla fine trova il mio nome perché è l'unico posto dove trova quella cosa che magari cercava, però la sensazione è che molto spesso ci si arrivi per caso, dopo alcuni di quelli che ci arrivano ci rimangono e ci rimangono anche volentieri da quello che mi sento dire. Cerchiamo, se è possibile, darti un po' da fare anche voi, insomma, come come manifestazione di sostegno, di di allargare di allargare la possibilità che altri arrivino a queste cose. Io posso cercare di produrre delle cose che secondo me fanno cultura, insomma, no, cioè di pubblicare anche dei libri che non sono soltanto divertimento, ma dei libri che fanno anche pensare, riflettere, insomma, che sono, che danno spessore. Faccio questo lavoro, ci dedico molto tempo, lo faccio gratuitamente, a volte con qualche rischio, chiederei a voi di darmi una mano, di darmi una mano a diffondere questa cosa in modo che anche altri ci arrivino, magari non solo casualmente, ma perché ne hanno parlato con voi, perché magari gli insegnanti a scuola l'hanno detto, si sono scambiati con i colleghi due parole, perché condividete nelle vostre pagine di Facebook o nei gruppi, insomma, da qualche parte divulgate la presenza di questo canale, è il modo che io mi sento di usare e quindi lo chiedo a chi apprezza questa cosa, ovviamente non lo chiedo a chi non lo apprezza, ma chi apprezza faccia anche un piccolo sforzo ulteriore, insomma, di allargare la conoscenza e di dare la possibilità anche ad altri di sfruttare quanto può trovare in questo luogo. Se è una cosa buona quella che si trova in questo luogo, naturalmente se tale la giudica, ecco. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.